Io direi andiamo avanti con un'altra domanda, visto che abbiamo comunque alcune, cioè abbiamo nel vostro disco ci sono solamente, se non sbaglio, aspetta un attimo che prendo il cd, sette canzoni, poi c'è un pezzo che anche che dura dieci minuti nel puro spirito progressivo. No, ecco, non è una cosa voluta, qua non a tutti i costi fare un pezzo lungo perché prog, questo no, effettivamente quello che sviluppiamo, lo sviluppiamo e poi quello che ne esce magari tu dici, ma quanto l'abbiamo fatta lunga sta qua, effettivamente. Sappiamo come inizia, ma poi non si sa. Ma sai che comunque se non sono cor, cioè in Italia il prog è comunque un genere musicale che piace nonostante tutto, cioè noi siamo estremi, o andiamo dalla Pausini oppure andiamo sul prog, noi in Italia siamo strani. Ma il prog italiano è conosciuto in tutto il mondo. Assolutamente, anzi in Giappone, è una roba, ci sono tanti dischi di artisti che sono più noti all'estero in Giappone piuttosto che in Italia dove non li conosci. C'è un gruppo come il Yopu Savantra che ha fatto tre concerti in Giappone e in Italia non se li conosce nessuno. C'è la Donella del Monaco, deve fare, non so, degli incontri oppure deve fare della musica lirica perché altrimenti, eppure hanno fatto dei dischi meravigliosi, difficili magari, ha una produzione discografica enorme, però sono cose che non riguardano la musica rock, ma che magari riguardano la tradizione veneta, la musica classica, cose di avanguardia che insomma in Italia piacciono, non piacciono, mentre magari in Giappone dove hanno una cultura un po' diversa, ne parlavamo con Pibio che lui col Giappone ha avuto anche a che fare con la sua vecchia band, ma anche con i suoi amici che vanno a suonare in Giappone, o sono distribuiti in Giappone, perché i giapponesi impazziscono per qualsiasi cosa, voglio dire, hanno comunque una determinata passione, insomma, trasmettono anche pezzi di band italiane di quell'epoca, e conoscono anche i ragazzini queste cose qua, che è una roba fuori di testa per noi, ma comunque sembra così, insomma, ecco. Sì, sì, esattamente, ecco, forse l'italiano tende ad essere sempre troppo esterofilo, se guardassi un po' più in casa scoprirete veramente delle band molto, molto, molto valide, e quindi, vabbè, essere esterofili a tutti i costi, come qualcuno, no, dai, non va bene, certamente. L'erba del vicino si dice sempre la più verde. Un mio amico diceva che l'erba del vicino è sempre più buona, però non ho mai capito questo. Ma quello era Bob Marley, diceva, forse ho Peter Tosh, dicevano queste cose qua. Tanto c'è Marta che continua a fare complimenti, insomma, ecco, a dire che avete dei pezzi fantastici, insomma, Roberto, una voce straordinaria. Grazie, ti ringraziamo. Ecco, andiamo avanti con un'altra domanda, poi se intanto voi dovete scrivere, perché comunque io ne ho. Abbiamo parlato comunque delle esperienze in studio, se non lo sbaglio, prima con Maurizio, modo di lavoro. Ecco, recensioni musicali, quelle sono state le più importanti e di che cosa dicono comunque del vostro Closer Lock? Allora, adesso, essendo uscito l'11 marzo, il disco ne abbiamo ricevute per ora ancora poche, 4-5 per adesso e quindi, insomma, aspettiamo anche di fare, di tirare le somme un po' più avanti. Comunque, nel complesso, insomma, il disco piace, può essere che sia in alcuni siti magari 9 su 10, oppure 8 su 10, oppure 7, però più o meno nella media, insomma, piace come proposta musicale e lo giudicano più fresco rispetto alla saga di Tiuman come sonorità, anche perché, insomma, come abbiamo detto... La regina muore, era una tragedia, più fresco sì, dai. No, ma forse anche perché avete rinnovato la formazione, cioè il cambio del cantante è significativo. Cambia la sonorità sicuramente, il cambio della voce è la cosa fondamentale, però anche proprio nei brani il fatto di non essere legati a questa... Cioè, la storia ovviamente di Tiuman era una storia molto cupa, triste, molto epica... Però aveva comunque una base metal, comunque c'era... Una base più metal e più sinfonica, perché per esempio, personalmente, come orchestrazioni, ho usato molti più archi, molto più orchestra, molto più... Invece questo disco è molto più fresco, ci sono più suoni, più synth, più organo, più... Anche i riff, armonicamente, ci sono più accordi maggiori, quindi è più... Anche giudicato proprio dalle recensioni, in questo modo, insomma. Ok, ma avete comunque recensioni importanti, cioè da portali, da riviste, avete qualcosa da... Allora, beh, Metalhead.it, Metallus, per adesso, e Arl Sounds. Sono comunque le testate più importanti... Sì, riviste non ancora, ma arriveranno anche, insomma, sulle riviste. Anche recensioni straniere o solo per il momento italiano? Anche straniere, stiamo, insomma, aspettando, perché il nostro Gianni della Cioppa, insomma, dell'Andromeda Relix, ci ha proprio detto dove, insomma, riceveremo, insomma, le recensioni e quindi... Qui lo conoscono molto bene, i nostri fans, è già stato ospite per presentare il suo Verona Rock. Niente, io aspetto sempre, perché c'è Pibbio, che ti ascoltavo molto bene i synth, ha detto, le vostre canzoni, quindi qua vi stanno radiografando, state attenti perché sono molto... No, temuti no, dai, insomma, siamo tutti lovers of the music, assolutamente. È molto interessante sapere anche cosa pensano, insomma, gli ascoltatori. Ma, infatti, sempre a microfoni spenti, stavamo appunto dicendo, cari a voi ascoltatori, che è veramente bellissima questa interazione, cioè, per favore, continuate così, perché... Io ho paura delle domande di Gianluca, per cui continuate a farle voi, che è molto più rilassante. Per favore delle domande, quindi, insomma, state vigili qui in chat, perché se non vi vediamo in chat, magari sì, sappiamo che ascoltate, ma è un po' un problema, perché, appunto, è solamente con la chat che sappiamo che ci state ascoltando. Poi, per il resto, sembra di fluttuare nel vuoto assoluto. Intanto c'è Pibbio, che ha trovato una birra che non sapeva. Vabbè, non c'entra niente. Comunque, ritornando a Pibbio, invece, che è stato molto più costruttivo, dice che i synth portano a quell'incredibile connubio di proghi e hard rock, tipo gli Iron Maiden di Somewhere in Time. Eccolo lì. Hai gelato Simone. Sì, in effetti, spettinato no, perché è impossibile, però comunque... Aperto in due. No, effettivamente stavo pensando a questa, così, stavo pensando a quello che ha detto, e non ci avevo mai pensato, effettivamente. Però molto, molto bello. Molto piacevole questo accostamento, eh? Direi proprio che sì. C'è Pibbi che vi domanda, ma quando venite a Londra? Eh, quando... In questi giorni c'è la strange, eh? Tu non c'eri la prossima settimana, ma in questi giorni fai il masterclass a Londra. Quindi, non so se poi te la perdi, eh? No, adesso ci stiamo muovendo, chiaramente, per... Così, parte qualche festival di italiano estivo che andremo a fare. Ricominceremo sicuramente poi, dopo la pausa del 20 luglio-agosto dovuta, pausa per altri motivi, chiaramente, non motivi artistici. Ricominceremo in autunno, stiamo programmando... Per motivi vacanzieri? No, no, no. No, per motivi... Per motivi di isola rock. Ah, giusto, 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 no. E gli altri dice, ci ne vuole per gelare Simone. Eh, va bene. Sì, grazie. E qua si fanno i riferimenti alle pancia e i pesi, grazie. No, si parlava degli aeromain in primo, no, del discorso. Ah, ok, boh. No, vabbè, ricominceremo comunque, diciamo, in autunno a girare. Abbiamo in programma già qualcosa, però chiaramente, finché non concretizziamo, non pubblichiamo nulla. Avete già comunque una scaletta di concerti... No, no, per l'autunno parlavamo. No, no, per l'autunno, non ho per l'autunno. E quello vedremo di fare qualche puntata anche, boh, altrove. Vedremo. Ecco, quindi, c'è più, dice, ma io sono un nerd mica da ridere, quindi sei attento che se lui parte, va e ti becca. No, vabbè, a parte questo, insomma, ecco, riguardo alle recensioni musicali abbiamo già parlato. E a proposito di Closer Lock, contate di fare un videoclip, perché è un po' che sarebbe bello anche vedere, no, appunto, videoclip serio. Infatti non abbiamo neanche un videoclip, effettivamente, perché... Ma ci sono dei video, qualcosa di audio. Sì, qualcosa di audio e qualche video live, che, insomma, è fatto un po' artigianalmente. Però pensiamo, insomma, di... Abbiamo in programma di fare un videoclip su un brano proprio di A Closer Look e lo faremo in futuro. Non abbiamo ancora programmato quando, però c'è in programma di farlo, sicuramente. Finalmente un videoclip ufficiale. Un videoclip ufficiale. Oh, che bello, che bello, no? Invece c'è Robby che scrive, diamo merito anche alla voce di Simone, molto radiofonica. Oggi ho sottoscritto la cadrega, perché si sente la cadrega che sta scricchiolando. No, è la mia cadrega che sta scricchiolando, appunto. Dicevo, ma questo è il bello della diretta. La diretta è la diretta. Allora, sì, andiamo avanti con un'altra canzone, direi. Perché a questo punto, insomma, abbiamo parlato in questo momento di A Closer Look e continuiamo a fare delle interviste, ma ovviamente dicevo, appunto, avete sette canzoni di cui già ne abbiamo tolta una perché dura dieci minuti, quindi sono sei canzoni. E dobbiamo un attimino andare avanti, ma a noi fa sempre piacere perché il ritmo è sempre bello sostenuto, ecco, insomma. Allora, direi, Against the Tides. Ui là là, qui dobbiamo presentarla bene però questa, eh. Volete già presentarla? A me fa molto piacere. Sì, è una canzone che abbiamo voluto, nella quale abbiamo voluto raggruppare un bel po' di collaborazioni perché abbiamo Claudio, degli Anticlockwise, Ilaria, che ci sta ascoltando, e Tafu, che hanno contribuito a... Ma chi è Tafu? Tiziano Tafuri. Ah, ecco, no, perché questi qua dicono chi è Tafu? Beh, vabbè. Esatto, è una variata del Tafu. Esatto. Da noi. Da noi. Esatto, è una variata del Tafu. È una variata del Tafu. Esatto, è una variata del Tafu.